Sì, questa è la dimostrazione di quanto appena detto prima, perché abbiamo ricepito le osservazioni degli uffici nel presentare, approvare ed esprimerci su questo regolamento nelle commissioni, nella commissione. Dopodiché, siccome l'attenzione è sempre attenta, è stato necessario fare questo sub-emendamento perché potestà genitoriale è un'espressione che non si usa più. Infatti, ai sensi del decreto legislativo 154 del 2013, non si può più parlare di potestà ma di responsabilità. Quindi il sub-emendamento si è reso necessario proprio perché siamo molto accorti e molto attenti all'uso delle parole e ai riferimenti normativi. Grazie.